ciao ragazzi sono di nuovo io panglerita gamer msm e benvenuti in questo nuovissimo altro video oggi vedremo l'isola delle ossa ovviamente è stata modificata come vedete e mi sono appena accorto che questo non è clava vera lara ma un nuovo design per clava vera quindi questa è la nuova clava vera e in più oltre l'è uscita anche la fioretta rara quindi bellissima proprio e quindi il nostro obiettivo sapete qual è intanto sull'isola delle ossa sono messo malissimo vabbè come vedete tutti ecco vedete solo quei mostri non è nulla che poi i soldini non ce li ho per spenderli per aggiornare il castello quindi capite ragazzi guardate com'è bella adesso la nuova isola guardate ci stanno chitarre degli scheletri che suonano la batteria poi ci qua sembra clava vera qui l'isola delle ossa è bellissima così ma io voglio capire come si fa clava vera adesso è modificata perché vi ho detto che ieri che avevo un nuovo design i talpister costano sei chiavi stavolta per oggi prendo solamente do prenderò solo do perché lo sentite come fa almeno le isole magiche ragazzi hanno anche i talpister quindi vai pangler balliamo vediamo vediamo se è uscita penso che quella era clava vera rara ma mi ero sbagliato di grosso clava vera modificata è più bella vediamo allora vi faccio vedere l'hotel ho sioretta duduk e bangescella e come mostri per ora ho ceppetto do wana 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 rara beckidna gemollari schiacciadita tip tap pangler e caliente aspettatemi un secondo e vado a vedere come si fa clava vera ora ragazzi cerchiamo su google perché su youtube e non ci non c'è però non ci sono video su come si fa clava vera forse nella wiki di mysigimostes ci dirà come è fatta clava vera prossimo evento sarà il banchetto delle braci comunque allora allora usa allora lei usa allora il suo strumento musicale vabbè sono i legnetti le clave cioè questo è il suo suono però non ci dice per che combinazione ha sull'isola delle ossa strano strano però vabbè ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao